La vegetazione che vedete alle mie spalle non è di certo la giungla ma è solo parte di un degrado che ha colpito questa struttura che ospitava la scuola elementare Archicentro. Proviamo ad entrare. Questa struttura, dopo essere stata dichiarata inagibile, pensate, è stata affidata alla protezione civile, alla sezione regina della protezione civile, in quanto struttura di emergenza per la popolazione in caso di calamità naturale. Quindi pensate, la popolazione regina della zona in caso di terremoto, di qualunque calamità naturale dovrebbe entrare in questo stabile. Le condizioni le potete giudicare voi stessi dando un'occhiata al soffitto, alle pareti, a tutto il resto. Questo è quanto rimane della scuola elementare Archicentro, lo ribadiamo. Affidata alla protezione civile, in caso di calamità la gente dovrebbe essere raccolta in questa zona. Questo è il punto di raccolta della popolazione di archi in caso di difficoltà. Una storia che ha dell'assurdo, ma che non risale a questi giorni. Era il 2009, quando un'ordinanza del sindaco di Reggio Calabria, firmata a Giuseppe Scopelliti, chiuse la scuola Archicentro per gravi carenze strutturali. Carenze che facilmente riscontriamo anche oggi e alle quali non si è mai posto rimedio. Questa struttura, ormai fatiscente, abbandonata a se stessa e letteralmente impraticabile, già allora rientrava nel piano della protezione civile come luogo sicuro e dunque valido punto di raccolta in caso di emergenza. Dopo quell'ordinanza del sindaco, nessuno però si è preso la briga di comunicare ufficialmente questa inagibilità del posto, che non è stato dunque depennato dall'elenco dei luoghi prescelti per le emergenze cittadine, nonostante le ripetute comunicazioni della circoscrizione competente. Peccato che le carenze strutturali vi erano pure allora come oggi, e pensare che la stessa struttura scolastica è stata anche sede di seggio elettorale nel 2008, appena qualche mese prima che venisse dichiarata definitivamente inagibile. Grazie a tutti.